Secondo round, la recidiva del cancro. Le battaglie del 2008. All'inizio del 2008 a Jobs e ai suoi medici divenne chiaro che il tumore si stava diffondendo. Quando gli avevano rimosso i tumori del pancreas nel 2004, Jobs aveva fatto sequenziare parzialmente il genoma del cancro. Questa operazione aveva aiutato i medici a stabilire quali vie metaboliche erano interrotte e a intervenire con terapie mirate che pensavano fossero quelle di massima efficacia. Jobs seguiva anche una terapia del dolore con analgesici a base di morfina. Un giorno nel febbraio 2008 lui e Catherine Smith, un'amica della Powell che si trovava ospite da loro a palo alto, fecero una passeggiata insieme. Mi disse che quando si sentiva veramente male si concentrava sul dolore, entrava nel dolore e questo sembrava spegnerlo, ricorda la Smith. Ma non era completamente vero. Quando Jobs soffriva le persone che lo circondavano non potevano non accorgersene. C'era un'altra questione relativa alla salute che stava diventando sempre più problematica, sulla quale i medici non si erano concentrati con lo stesso rigore che avevano dedicato al cancro o al dolore. Jobs aveva problemi di alimentazione e perdeva peso. Questo accadeva perché gli avevano rimosso gran parte del pancreas che produce gli enzimi necessari per la digestione delle proteine e di altri elementi nutritivi, ma anche perché la morfina riduceva il suo appetito. E poi c'era una componente psicologica che i medici non sapevano come gestire né come curare. Fin dall'adolescenza Jobs era stato ossessivamente dedito a regimi alimentari severi e a periodi di digiuno. Anche dopo sposato e dopo la nascita dei figli aveva mantenuto queste strane abitudini alimentari. Per intere settimane mangiava la stessa cosa, insalata di carote condita con limone o semplicemente mele, per poi all'improvviso abbandonare quell'alimento e dichiarare che non l'avrebbe più mangiato. Continuava anche a digiunare come faceva da ragazzino ed era diventato un fervente predicatore che intratteneva i propri ospiti a tavola con noiosi sermoni sul regime alimentare del momento. Quando si erano sposati, la Powell era vegana, ma dopo il primo intervento chirurgico del marito decise di diversificare l'alimentazione della famiglia allargandola al pesce e ad altri alimenti contenenti proteine. Il loro primo figlio, Reed, che era stato vegetariano, divenne un forte onnivoro e tutti erano consapevoli di quanto fosse importante per Jobs disporre di fonti variate di proteine. La famiglia assunse un cuoco versatile e dal buon carattere. Briar Brown, che tempo prima aveva lavorato al Cheese Panisse per Alice Waters. Arrivava al pomeriggio e preparava una quantità di piatti salutari per la cena, in cui usava le erbe aromatiche e le verdure che la Powell coltivava nell'orto. Se Jobs manifestava qualsiasi desiderio, insalata di carote, pasta al pesto, minestra di citronella, Brown, con calma e pazienza, trovava sempre il modo di soddisfarlo. Jobs aveva sempre avuto opinioni molto decise in ambito alimentare, con la tendenza a giudicare istintivamente il cibo come ottimo o pessimo. Poteva assaggiare due avocado, che per la maggior parte dei comuni mortali erano assolutamente uguali, e decidere che uno era il migliore mai coltivato sulla faccia della terra e l'altro assolutamente immangiabile. A partire dall'inizio del 2008, i disorni alimentari di Jobs peggiorarono. Certe sere rimaneva a fissare il pavimento e non degnava di uno sguardo i piatti disposti sul lungo tavolo della cucina. E quando gli altri erano a metà cena, si alzava improvvisamente e se ne andava, senza dire nulla. Era stressante per la sua famiglia, che nel corso della primavera lo aveva visto perdere 18 kg. I suoi problemi di salute diventero nuovamente di dominio pubblico nel marzo 2008, quando Fortune pubblicò un articolo intitolato I guai di Steve Jobs, in cui rivelava che da nove mesi stava cercando di curare il cancro con la dieta, oltre a indagare sul suo coinvolgimento nella retrodattazione delle stock option Apple. Mentre l'articolo era in preparazione, Jobs invitò, forse si dovrebbe dire convocò, il capo redattore di Fortune, Andy Searwar, a copertino, per convincerlo a rinunciare alla pubblicazione. Si avvicinò a Searwar e gli domandò, dunque, hai scoperto che sono un coglione? Dov'è la notizia? Jobs fece la medesima considerazione anche quando telefonò al capo di Searwar, tra la Time Inc., John Huey, da un telefono satellitare che si era portato al Kona Village, all'EY. Si offrì di organizzare una tavola rotonda di amministratori delegati nella quale si discutesse se fosse giusto o meno rivelare questioni attinenti alla salute, ma a condizione che Fortune non pubblicasse il pezzo. La rivista rifiutò la proposta. Quando Jobs presentò l'iPhone 3G nel giugno 2008, la sua magrezza oscurò il lancio del prodotto. Sulle pagine di Esquire, Tom Junod descrisse la sua figura appassita sul palco, definendolo scarno come un pirata, con indosso quello che sarebbe diventato l'abito della sua invulnerabilità. La Apple rilasciò un comunicato affermando falsamente che il suo dimagrimento era il risultato di un comune virus. Il mese successivo, dato che gli interrogativi persistevano, l'azienda fece uscire un altro comunicato in cui affermava che la salute di Jobs era una questione di natura privata. John Ocera del New York Times scrisse un editoriale criticando la gestione delle questioni legate alla salute di Jobs. Non si può dare credito all'Apple se il tema è la salute del suo amministratore delegato, scrisse alla fine di luglio. Sotto la guida del signor Jobs, l'Apple ha promosso una cultura della segretezza che le è stata utile sotto molti aspetti. Le ipotesi e le rivelazioni sui prodotti che avrebbe presentato all'evento annuale di Macworld sono state tra le sue grandi armi di marketing, ma questa stessa cultura avvelena la corporate governance. Mentre scriveva l'articolo, oltre al consueto «è una questione di natura privata» dell'ufficio stampa dell'Apple, Nocera ricevette anche un'inattesa telefonata da Jobs in persona. «Sono Steve Jobs», esordì. «Lei pensa che io sia uno stronzo arrogante che crede di essere al di sopra della legge, e io penso che lei sia un collettore di liquami che non conosce i fatti». Dopo questo esordio abbastanza paralizzante, Jobs si offrì di dare al giornalista alcune informazioni sulla propria salute, a condizione che non venissero rese pubbliche. Nocera accettò la condizione, ma fu comunque in grado di scrivere che, pur non essendo riferibili a un comune virus, i problemi di salute di Jobs non sono potenzialmente esiziali e il cancro non è recidivante. Jobs aveva dato Nocera più informazioni di quanto fosse disposto a rivelarne al suo consiglio di amministrazione e agli azionisti. Ma non era la verità. In parte a causa delle preoccupazioni per la perdita di peso di Jobs, il prezzo delle azioni Apple era sceso dai 188 dollari all'inizio di giugno 2008 ai 156 dollari della fine di luglio. La situazione peggiorò alla fine di agosto, quando Bloomberg News per errore diffuse un coccodrillo di Jobs che finì pubblicato su Gawker. Pochi giorni dopo, al suo evento musicale annuale, Jobs pote citare la celebre frase di Mark Twain. «Le voci sulla mia morte sono oltremodo esagerate», disse, lanciando una nuova linea di iPod, ma la sua scheletrica apparizione non fu comunque rassicurante. All'inizio di ottobre il titolo Apple era sceso a 97 dollari. Quel mese Doug Morris della Universal Music avrebbe dovuto incontrare Steve Jobs alla Apple, invece Jobs lo invitò a casa. Morris fu sorpreso di vederlo così ammalato e sofferente. Morris sarebbe stato l'ospite d'onore a un gala a Los Angeles per City of Hope, un'associazione che raccoglieva fondi per la lotta contro il cancro. Jobs di solito evitava gli eventi di beneficenza, ma a questo accettò di partecipare, sia per Morris sia per la causa. All'evento che si teneva sotto un tendone sulla spiaggia di Santa Monica, Morris disse ai 2000 convenuti che Jobs stava offrendo all'industria musicale una nuova speranza di vita. Le esibizioni di Steve Nicks, Lionel Rickey, Ariak, Badu e Acon proseguirono fino a tre la mezzanotte e Jobs fu preda di brividi incontrollati. Jimmy Yovine gli prestò una felpa con cappuccio e Jobs tenne la testa coperta per tutta la serata. Era molto malato, aveva un gran freddo, era magrissimo, ricorda Morris. Il veterano di giornalisti esperti di tecnologia di Fortune, Brent Schlender, avrebbe lasciato la rivista a dicembre e, come canto del cigno, aveva pensato a un'intervista congiunta con Jobs, Bill Gates, Andy Grove e Michael Dell. Era stata una cosa difficile da organizzare e a pochi giorni dalla data stabilita Jobs gli telefonò per ritirarsi. Se ti chiedono perché, rispondigli che sono uno stronzo, gli disse. Gates ne fu irritato, poi scoprì quali erano le vere condizioni di salute di Jobs. Naturalmente aveva un'ottima ragione, disse Gates, solo che non la voleva rivelare. La cosa divenne ancora più evidente quando, il 16 dicembre, la Apple comunicò che Jobs non avrebbe partecipato all'impegno che aveva in programma al Macworld di gennaio, l'occasione che aveva sempre utilizzato per i grandi lanci di prodotto negli ultimi 11 anni. La blogosfera si infiammò di ipotesi e speculazioni sulla sua salute, gran parte delle quali avevano il sapore odioso della verità. Jobs era furioso, si sentiva violato. Era anche irritato perché l'Apple non era sufficientemente attiva nello smentire. Così, il 5 gennaio 2009 scrisse e rese pubblica una forviante lettera aperta in cui affermava di non presenziare a Macworld perché desiderava trascorrere più tempo con la famiglia. Come molti di voi sanno, nel corso del 2008 ho perso molto peso, aggiungeva. I medici pensano di aver trovato la causa. Uno squilibrio ormonale che ha sottratto al mio corpo le proteine di cui ha bisogno per essere sano. Sofisticati esami del sangue hanno confermato la diagnosi. Il rimedio per questo problema nutrizionale è relativamente semplice. In tutto questo c'era un'ombra di verità, per quanto pallida. Uno degli ormoni prodotti dal pancreas, il glucagone, una sorta di reciproco dell'insulina, provoca il rilascio di zuccheri nel sangue da parte del fegato. Il tumore di Jobs era metastizzato nel fegato e stava provocando scompensi. In effetti era come se il suo corpo stesse divorando se stesso, per cui gli venivano somministrati farmaci per abbattere il livello di glucagone. Aveva uno scompenso ormonale, ma era a causa della diffusione del tumore al fegato. Lui lo negava e voleva anche che la cosa fosse negata pubblicamente. Sfortunatamente la questione aveva anche risvolti legali, perché Jobs gestiva una società quotata. Tuttavia era furioso per il modo in cui veniva trattato nella blogosfera e voleva reagire. Nonostante l'ottimistico comunicato, a questo punto era seriamente malato e soffriva terribilmente. Si era sottoposto a un altro trattamento di chemioterapia con tremendi effetti collaterali. La pelle aveva cominciato a seccarsi e a screpolarsi. Alla ricerca di approcci alternativi volò in Svizzera, a Basilea, per sottoporsi a una radioterapia sperimentale con ormoni marcati. Si sottopose anche a un altro trattamento sperimentale, sviluppato a Rotterdam, noto come radioterapia recettoriale con peptidi marcati. Dopo una settimana di intense consulenze legali, Jobs accettò di prendersi una licenza per malattia. Fece l'annuncio il 14 gennaio 2009, in un'altra lettera aperta ai dipendenti Apple, in cui esordiva giustificando la decisione con la sgradita intrusione dei blogger e della stampa. Sfortunatamente, la curiosità riguardo la mia salute rappresenta una distrazione non solo per me e per la mia famiglia, ma anche per chi lavora all'Apple. Poi ammise che curare il suo squilibrio ormonale non era semplice, come aveva affermato. Nella settimana passata ho appreso che le questioni legate alla mia salute sono più complicate di quanto pensassi. Tim Cook avrebbe nuovamente assunto la responsabilità dell'operatività quotidiana, ma Jobs disse che sarebbe rimasto amministratore delegato, che sarebbe comunque stato coinvolto in tutte le decisioni più importanti e che sarebbe rientrato in giugno. Jobs si era continuamente consultato con Bill Campbell e Art Levinson, che si barcamenavano nel duplice ruolo di consiglieri personali per la salute e di co-amministratori indipendenti dell'Apple. Ma il resto del consiglio di amministrazione non era pienamente informato e gli azionisti, almeno inizialmente, erano stati informati erroneamente. Questo sollevava questioni legali e la SEC apriò un'inchiesta per stabilire se la società avesse celato informazioni materiali agli azionisti. Se si fosse scoperto che la società aveva permesso la disseminazione di false informazioni o avesse nascosto informazioni vere e rilevanti per le prospettive economiche dell'azienda, si sarebbe configurato un reato con risvolti penali. Dato che Jobs e la sua aura di magia venivano completamente identificati con il ritorno alla grande dell'Apple, la sua salute sembrava poter essere il tipo di informazione che impone trasparenza, ma era anche una zona grigia della legge perché doveva essere preso in considerazione anche il diritto alla privacy dell'amministratore delegato. In questo caso trovare un equilibrio era particolarmente difficile perché Jobs teneva la propria privacy e allo stesso tempo incarnava più di qualsiasi altro amministratore delegato l'azienda che gestiva. Lui stesso non rendeva le cose più semplici, si lasciò prendere dall'emotività lamentandosi e a volte scoppiando a piangere quando si trovava di fronte qualcuno che gli suggeriva di rinunciare a un po' di segretezza. Campbell teneva l'amicizia con Jobs e non voleva avere alcun incarico fiduciario che lo potesse costringere a violare la sua privacy, così si offrì di rassegnare le proprie dimissioni dal consiglio. La questione della privacy per me è estremamente importante, disse in seguito. Lui è mio amico da milioni di anni. Gli avvocati alla fine stabilirono che non era necessario si dimettesse dal consiglio se avesse rinunciato alle deleghe. Il suo ruolo venne assunto da Andrea Jung dall'Evon. L'indagine della SEC finì nel nulla e il consiglio fece quadrato per difendere Jobs da qualsiasi richiesta di rendere pubblica un maggior numero di informazioni. La stampa faceva pressione affinché rivelassimo più notizie, ricorda Al Gore. Ma era solo Steele che poteva decidere se fare qualche passo in più rispetto a quello che la legge gli imponeva. E lui era determinato a difendere la sua privacy. Il suo desiderio andava rispettato. Quando domandato a Gore se il consiglio avrebbe dovuto essere più trasparente all'inizio del 2009, quando le condizioni di salute di Jobs erano decisamente peggiori di quanto gli azionisti erano stati indotti a credere, mi rispose, ci siamo rivolti a consulenti indipendenti per stabilire cosa la legge ci imponesse di fare e quali fossero le procedure migliori. Abbiamo gestito tutto sulla base delle norme. Posso sembrare sulla difensiva, ma le critiche su questo punto mi hanno davvero irritato. Uno dei membri del consiglio di amministrazione era in disaccordo. Jerry York, ex direttore finanziario della Chrysler e dell'IBM, non disse niente in pubblico, ma confidò a un giornalista del Wall Street Journal in via riservata di essere stato disgustato nell'apprendere che la società aveva nascosto i problemi di salute di Jobs alla fine del 2008. Francamente avrei dovuto dimettermi all'epoca. Alla morte di York nel 2010 il Journal rese pubblica la sua dichiarazione. York aveva dato informazioni in via confidenziale anche a Fortune, che ne fece uso in occasione della terza licenza per malattia di Jobs nel 2011. Qualcuno all'Apple non credette che le frasi di York riportate dalla stampa fossero vere, dal momento che non aveva sollevato alcuna obiezione all'epoca. Ma Bill Campbell sapeva che quasi con assoluta certezza quelle frasi erano state pronunciate. York si era lamentato con lui all'inizio del 2009. Jerry probabilmente aveva bevuto un po' troppo vino bianco una sera. Così mi chiamò fra le due e le tre del mattino per dirmi «Vaffanculo, non creda queste stronzate sulla sua salute, dobbiamo vederci chiaro». La mattina dopo lo richiamai e mi disse «Oh no, lascia stare, niente di cui preoccuparsi». Per cui non escludo che una sera si possa essere lasciato prendere la mano e abbia parlato con qualche giornalista. Memphis. Il capo del team oncologico di Jobs era George Fisher della Stanford University, uno dei principali ricercatori nell'ambito dei tumori gastrointestinali e colon rettali. Per mesi aveva avvertito Jobs di prendere in considerazione un trapianto di fegato, ma quello era il tipo di informazione che Jobs si rifiutava di accettare. La Powell era lieta che Fisher si ostinasse nel prospettare l'evenienza, perché sapeva che sarebbero state necessarie molte insistenze perché il marito prendesse l'idea in considerazione. Alla fine del gennaio 2009, poco dopo aver dichiarato di soffrire di uno squilibrio ormonale, che poteva essere curato facilmente, Jobs si convinse. Fu inserito nella lista d'attesa per il trapianto di fegato in California, ma presto fu chiaro che in quello stato non avrebbe avuto un organo in tempo. Il numero di donatori potenziali con il suo stesso gruppo sanguigno era troppo basso. Inoltre, i parametri utilizzati dalla United Network for Organ Sharing che determinavano la destinazione degli organi negli Stati Uniti favorivano i sofferenti di cirrosi e di epatite rispetto ai malati di cancro. Non esiste alcun modo legale per saltare la coda, neppure per un paziente ricco come Jobs. I riceventi sono selezionati sulla base del loro punteggio MELD, Model for End Stage Liver Diseases, che ricorre ad analisi chimiche dei livelli ormonali per determinare l'urgenza del trapianto e del tempo di attesa trascorso. Ogni donazione è attentamente valutata e i dati sono disponibili su siti internet di pubblico accesso optn.transplant.hrsa.gov e chiunque può controllare il proprio stato nella graduatoria in qualsiasi momento. La Powell divenne un'esperta di siti internet sulla donazione di organi e ogni sera controllava quante persone fossero in lista d'attesa, il loro punteggio MELD e da quanto tempo aspettassero. È facile fare i calcoli, come ho fatto io, e scoprire che sarebbe stato necessario aspettare fino a giugno per ottenere un fegato in California. I medici erano convinti che il suo avrebbe ceduto in aprile, ricorda. Così cominciò a fare domande e scoprì che si poteva essere in lista d'attesa per il trapianto in più di uno stato, un'opzione scelta da meno del 3% dei pazienti. L'iscrizione a liste multiple non è scoraggiata, anche se alcuni la criticano, sostenendo che favorisca i pazienti ricchi. Ma è difficile da ottenere a causa di due principali vincoli. Il potenziale ricevente deve essere in grado di raggiungere gli ospedali nei quali è in lista in meno di 8 ore, cosa che a Jobs era possibile fare disponendo di un aereo privato, e i medici di ogni ospedale scelto devono valutare il paziente prima di accettarlo e inserirlo nella lista d'attesa. George Raleigh, l'avvocato di San Francisco che aveva spesso fatto da consulente esterno per l'Apple, era un educato gentiluomo del Tennessee, diventato intimo di Jobs. Entrambi i suoi genitori erano stati medici al Methodist University Hospital di Memphis, la città dove Raleigh era nato. Inoltre era amico di James Eason, che dirigeva l'istituto dei trapianti di quell'ospedale. L'unità di Eason era una delle più efficienti del paese. Nel 2008 aveva eseguito 121 trapianti di fegato. Lui non aveva difficoltà ad ammettere pazienti di altri stati nella lista d'attesa del suo ospedale. Non è a girare le regole, afferma, è lasciare alla gente la possibilità di decidere dove farsi curare. Alcuni se ne vanno dal Tennessee per recarsi in California. In questo caso abbiamo avuto un paziente californiano che è venuto a curarsi qui. Raleigh organizzò un viaggio di Eason a Palo Alto, in modo che potesse condurre lì le valutazioni necessarie all'inserimento di Jobs nella lista. Alla fine del febbraio 2009, Jobs aveva ottenuto un posto nella lista d'attesa del Tennessee, oltre a quello che manteneva in California, e cominciò la sua esnervanta attesa. Già nella prima settimana di marzo, la sua salute cominciò a peggiorare rapidamente e le aspettative di attesa in lista erano di 21 giorni. Fu terribile, ricorda la Powell. Sembrava che non avremmo fatto in tempo. Ogni giorno aumentavano tensione e sofferenza. A metà marzo era al terzo posto nella lista d'attesa, poi secondo, e alla fine primo. Ma le giornate passavano. La terribile realtà era che gli ormai prossimi eventi della festa di San Patrizio e della March Madness, letteralmente follia di marzo, si tratta di ciò che avviene tra i tifosi di basket durante il mese cruciale per le sorti del campionato universitario. Ai primi di marzo, infatti, si svolgono i tornei delle varie conference, seguiti a metà mese dal torneo NCAA, che si conclude con le final tour. Memphis era nel torneo 2009 ed era sede regionale. Avrebbero offerto una maggiore probabilità di trovare un donatore a causa del picco degli incidenti stradali legati agli eccessi del bere. Infatti, in fine settimana, il 21 marzo 2009, un 25enne rimase ucciso in un incidente stradale e i suoi organi furono resi disponibili. Jobs e la moglie volarono immediatamente a Memphis. All'atterraggio, poco prima delle 4 del mattino, trovarono ad attenderli sulla pista un'auto e il dottor Eason. Era stato tutto predisposto in modo che la documentazione di accettazione fosse pronta per essere firmata mentre procedevano rapidamente verso l'ospedale. Il trapianto fu un successo, ma non fu rassicurante. Quando i medici rimossero il fegato, trovarono tracce sospette sul peritoneo, la sottile membrana che avvolge gli organi interni. Inoltre, c'erano tumori in tutto il fegato e questo significava una forte probabilità che il cancro si fosse diffuso anche da altri organi. Sembrava che fosse mutato e cresciuto molto rapidamente. Prelevarono dei campioni ed eseguirono ulteriori mappature genetica. Pochi giorni dopo dovette eseguire un'altra operazione. Jobs insistette contro il parere di tutti affinché non gli svuotassero lo stomaco e quando lo sedarono a causa di un reflusso, inalò particelle del contenuto dello stomaco nei polmoni, contrendo un'infezione polmonare. A quel punto erano tutti convinti che sarebbe morto. Come lui stesso avrebbe raccontato successivamente, sono quasi morto per un errore durante un'operazione di routine. Lauren era già lì e i miei figli sono tutti arrivati in volo perché erano convinti che non avrei passato la notte. Reed era con uno dei fratelli di Lauren a visitare alcune università per scegliere dove sarebbe andato. Mandammo un aereo privato a prenderlo vicino a Dartmouth informandolo di ciò che stava accadendo. Un altro aereo è stato mandato a prendere le ragazze. Pensavano che fosse l'ultima possibilità che avevano di vedermi cosciente, ma ce l'ho fatta. La Powell si assunse l'incarico di supervisionare le cure, restando nella stanza dell'ospedale tutto il giorno a controllare continuamente ogni monitor. Lauren era una bellissima tigre che lo proteggeva, ricorda Johnny Hive, che si recò in visita da Jobs non appena furono ammessi i visitatori. La madre di lei e tre suoi fratelli si diedero il cambio per tenerle compagnia. Anche la sorella di Jobs, Mona Simpson, gli stetti dietro protettivamente. Lei e George Riley erano le uniche persone che Jobs ammetteva nella sua stanza a sostituire la Powell accanto al suo letto. La famiglia di Lauren ci ha aiutato a badare ai ragazzi, sua madre e i suoi fratelli sono stati fantastici, avrebbe detto in seguito Jobs. Io ero molto fragile e non cooperativo, ma un'esperienza come questa fortifica i legami in modo molto profondo. La Powell arrivava in ospedale ogni mattina alle 7 e raccoglieva i dati clinici rilevanti che inseriva in un foglio elettronico. Era assai complicato perché succedevano molte cose, ricordo. Quando James Eason e il suo staff medico arrivarono alle 9, Lauren partecipava a un meeting per coordinare tutti gli aspetti della cura del marito. Alle 9 di sera, prima di andarsene, preparava una relazione sull'andamento di tutti gli indici vitali e le altre misurazioni, individuandone le tendenze e lasciava anche una serie di domande per le quali desiderava avere una risposta il giorno seguente. Questo mi teneva il cervello occupato e mi aiutava a restare concentrata, ricorda. Eason fece quello che nessuna Stanford aveva mai fatto completamente. Si prese la responsabilità di tutti gli aspetti della cura. Dato che gestiva la struttura, poteva coordinare il decorso post-trapianto, i test oncologici, la terapia del dolore, la nutrizione, la riabilitazione e l'assistenza infermieristica. Si fermava perfino al supermercato per acquistare la bevanda energetica che Jobs preferiva. Due delle infermiere venivano da una piccola città del Mississippi e divennero le preferite di Jobs. Erano solide madri di famiglia, per niente intimidite dal celebre paziente. Eason fece in modo che fossero assegnate solo a lui. Per gestire Steve devi essere insistente, ricorda Tim Cook. Eason lo fu con Steve e lo costrinse a fare cose che nessun altro sarebbe riuscito a fargli fare. Cose che gli facevano bene, ma non erano per niente piacevoli. Nonostante tutte le attenzioni di cui era oggetto, a volte Jobs perdeva la testa, non sopportava l'idea di non avere il controllo della situazione e occasionalmente soffriva di allucinazioni e si infuriava. Anche quando era malapena cosciente, la sua forte personalità trovava modo di manifestarsi. In un'occasione l'opneumologo tentò di mettergli una mascherina sul viso mentre era sedato. Jobs se la strappò di dosso farfugliando che non gli piaceva il design e che non l'avrebbe indossata. Era appena in grado di parlare, ma ordinò che gli venissero portate cinque mascherine diverse, in modo da poter sceglierne una che gli piacesse. I medici guardarono la Powell sconcertati. Alla fine lei riuscì a distrarlo e furono in grado di fargli indossare la mascherina. Non gli piaceva neppure il rilevatore di ossigeno che gli avevano applicato al dito. Disse ai medici che era brutto e troppo complesso e suggerì loro soluzioni per un design più semplice. Era attento a ogni sfumatura dell'ambiente che lo circondava e questo contribuiva a prostrarlo, ricorda la Powell. Un giorno, quando ancora fluttuava fra coscienza e incoscienza, Catherine Smith, l'amica della Powell, andò a visitarlo. Il suo rapporto con Jobs non era mai stato facile, ma Lauren aveva insistito per farla entrare nella stanza. Lui la fece avvicinare, le indicò un blocco per appunti e una penna, se li fece portare e scrisse voglio il mio iPhone. La Smith lo tirò fuori da un cassetto e glielo porse. Prendendole la mano, Jobs le mostrò la funzione di apertura e la fece giocare con i menù. Il rapporto di Jobs con Lisa Brennan Jobs, la figlia che aveva avuto dalla sua prima compagna, Chris, si era sfilacciato. Lei si era laureata ad Harvard, si era trasferita a New York e raramente comunicava con il padre. Ma volò due volte fino a Memphis e lui apprezzò il gesto. Per me ha voluto dire molto, ricorda. Purtroppo, al momento, non glielo disse. Ma molte delle persone che circondavano Jobs trovavano che Lisa potesse essere impegnativa come il padre, ma la Powell la accolse e cercò di coinvolgerla. Quello era un rapporto che lei voleva contribuire a ricostruire. Con il miglioramento delle condizioni di salute, la forte personalità di Jobs era ripresa a manifestarsi. Quando cominciò a restabilirsi, attraversò rapidamente una fase di gratitudine per poi tornare al suo abituale modo brusco e assertivo, ricorda Kat Smith. Ci domandavamo tutti se sarebbe uscito da questa esperienza con un atteggiamento più gentile, ma scoprimo che non era così. Rimase anche difficile rispetto all'alimentazione e la cosa in quel momento era un problema più grave che mai. Mangiava solo composte di frutta ed esigeva che ce ne fossero sei o sette disposte in fila, in modo da poter scegliere quella che lo soddisfaceva. Portava il cucchiaio alla bocca per un assaggio e si pronunciava «questa non è buona, anche questa non ha un buon sapore». Alla fine, Eason lo rimise al suo posto. «Non è una questione di gusto», lo redargui. «La smette di pensarci come un alimento e comincia a considerarlo un farmaco». L'umore di Jobs si risolevò quando fu in grado di ricevere visite dall'Apple. Tim Cook si recava a Memphis regolarmente e lo aggiornava sui progressi di nuovi prodotti. «Lo vedevi illuminarsi appena il discorso passava all'Apple», dice Cook. «Era come accendere la luce. Amava profondamente l'azienda e sembrava vivere per la prospettiva di un rientro». I dettagli gli davano energia. Quando Cook gli descrisse il nuovo modello dell'iPhone, Jobs dedicò l'ora successiva a discutere non solo su come chiamarlo, si accordarono su iPhone 3GS, ma anche sul carattere e il corpo del GS, incluso se le lettere dovessero essere maiuscole, la scelta poi adottata, o corsiva. Un giorno Riley gli organizzò una visita a sorpresa, fuori orario, al Sun Studio, il santuario di mattoni rossi dove Elvis Presley, Johnny Cash, B.B. King e molti altri pionieri del rock'n'roll avevano registrato i loro dischi. Gli fu offerta una visita guidata e una descrizione storica da uno dei più giovani membri dello staff, che stette seduto accanto a Jobs sulla panchina segnata dalla braccia delle sigarette di Jerry Lee Lewis. Jobs era probabilmente la persona più influente nel mondo della musica all'epoca, ma il ragazzo non lo riconobbe, macciato com'era. Mentre se ne stavano andando, Jobs disse a Riley «Quel ragazzo è davvero intelligente, dovremmo assumerlo per iTunes». Così Riley telefonò a Eddie Q, che acquistò un biglietto d'aereo per il ragazzo e lo spedì in California, dove dopo i colloqui di rito finì per essere assunto e contribuì a creare il catalogo delle prime sezioni Rhythm and Blues e Rock and Roll di iTunes. Quando in seguito Riley tornò al Sun Studio a incontrare i suoi amici, questi gli dissero che la vicenda aveva dimostrato quanto fosse vero lo slogan che avevano adottato. Qui i tuoi sogni possono ancora diventare realtà. Il ritorno. Alla fine di maggio del 2009, Jobs fece il ritorno da Memphis sul suo jet con la moglie e la sorella. All'aeroporto di San Jose vennero accolti da Tim Cook e Johnny Ive che salirono a bordo dell'aereo appena atterrato. La vedevi nei suoi occhi l'eccitazione per essere tornato, ricorda Cook. Aveva lottato ed era pronto a ripartire. La Powell tirò fuori una bottiglia di sidero sfrizzante e brindò a suo marito e tutti si abbracciarono. Ive era emotivamente prosciugato, guidò dall'aeroporto fino a casa di Jobs e durante il viaggio gli raccontò quanto fosse stato difficile fare in modo che le cose continuassero a girare in sua assenza. Si lamentò anche degli articoli di giornali secondo i quali all'Apple l'innovazione dipendeva da Jobs e non sarebbe stata più una caratteristica dell'azienda se lui non fosse tornato. Mi hanno davvero ferito, gli confessò. Si sentiva devastato e non apprezzato a sufficienza. Dopo il ritorno a palo alto, anche l'umore di Jobs tendeva al nero. Doveva fare i conti con l'idea di poter essere non indispensabile all'azienda. Il titolo Apple era andato bene durante la sua assenza, salendo dagli 82 dollari del giorno dell'annuncio del suo temporaneo abbandono ai 140 dollari del suo ritorno alla fine di maggio. In una teleconferenza con alcuni analisti poco dopo l'uscita di scena di Jobs, Cook si prese una licenza dalla sua abituale freddezza e offrì una commovente dichiarazione del perché l'Apple avrebbe continuato a crescere, anche in assenza di Jobs. Noi crediamo di essere sulla faccia della terra per realizzare grandi prodotti, e questo non cambierà. Siamo completamente concentrati sull'innovazione. Crediamo nelle cose semplici, non in quelle complicate. Siamo convinti di dover controllare le principali tecnologie su cui si fondono i prodotti che realizziamo, e di dover entrare solo nei mercati nei quali possiamo dare un contributo significativo. Crediamo nel dire no a migliaia di progetti, in modo da poterci concentrare sui pochi che sono veramente importanti e significativi per noi. Crediamo in una solida collaborazione, e nella contaminazione fra i nostri gruppi di lavoro, cosa che ci permette di innovare come nessun altro riesce a fare. E francamente non ci accontentiamo di niente di meno dell'eccellenza in ogni gruppo dell'azienda, avendo l'onestà di ammettere quando ci sbagliamo e il coraggio di cambiare. E io penso che, indipendentemente da chi fa cosa, questi valori fanno talmente parte di questa azienda che l'Apple continuerà a essere eccellente. Sembrava una dichiarazione che avrebbe potuto fare Jobs, e in effetti ne aveva fatte di simili, ma la stampa la battezzò, la dottrina Cook. Jobs ne fu irritato e profondamente abbattuto, soprattutto a causa dell'ultima frase, non sapeva se esserne orgoglioso o sentirsi ferito. Si vociferava che potesse lasciare l'incarico di amministratore delegato per assumere quello, altrettanto prestigioso ma meno operativo, di presidente. Questo rafforzò ulteriormente la sua motivazione ad alzarsi dal letto, vincere il dolore e ricominciare a fare le sue lunghe passeggiate ristoratrici. Pochi giorni dopo il suo ritorno era pianificato una riunione del Consiglio di Amministrazione, e Jobs a sorpresa tutti partecipandomi. Si presentò inatteso e fu in grado di restare per quasi tutta la durata della riunione. Già all'inizio di giugno teneva riunioni quotidiane a casa sua, e alla fine del mese era tornato a lavoro. E ora, dopo aver visto la morte in faccia, sarebbe stato più malleabile? I suoi colleghi ebbero immediatamente una risposta. Proprio il primo giorno lasciò sbigottiti i suoi collaboratori più stretti con una serie di reprimende. Fece a pezzi gente che non vedeva da sei mesi, stracciò qualche piano di marketing e ridusse in briciole un paio di persone il cui lavoro non gli sembrava sufficientemente buono. Ma la cosa più rivelatrice di ogni altra fu la frase che disse ai due amici più tardi nel pomeriggio. È stato bellissimo tornare oggi. Mi sembra impossibile sentirmi così creativo e vedere quanto lo sia l'intero team. Tim Cook l'ha presa bene. Non ho mai visto Steve trattenersi dall'esprimere una sua opinione o sensazione, disse in seguito, ma andava bene così. Gli amici notarono che Jobs aveva conservato tutta la sua brutalità. Durante la convalescenza si era abbandonato al servizio ad alta definizione Comcast per la televisione via cavo e un giorno telefonò a Brian Roberts che gestiva quella azienda. Pensavo che mi avesse chiamato per dirmi qualcosa di positivo sul servizio, ricorda Roberts. Invece mi disse, fa schifo. Ma Andy Herzfeld notò che sotto questa scorza ruvida Jobs era diventato più onesto. Prima se gli chiedevi un favore Steve poteva anche decidere di fare l'esatto contrario. Era il lato perverso della sua natura. Ora cerca davvero di aiutarti. Il suo rientro pubblico avvenne il 9 settembre, quando salì sul palco del tradizionale evento musicale aziendale. Ricevette un'ovazione di almeno un minuto e attaccò a parlare su una nota sorprendentemente personale, facendo riferimento al fatto di essere il beneficiario di una donazione di organi. Non sarei qui senza questo gesto di generosità, disse. Così spero che ognuno di noi possa essere altrettanto generoso e decida di diventare donatore di organi. E dopo un momento di esaltazione, sono in piedi, sono di nuovo all'Apple e la cosa mi piace un sacco. Presentò la nuova linea di iPod Nano, dotata di videocamere e disponibili in 9 diverse colorazioni di alluminio anodizzato. All'inizio del 2010 aveva recuperato gran parte delle proprie forze e si era lanciato di nuovo nel lavoro per quello che sarebbe stato per lui e per l'Apple uno degli anni più produttivi. Aveva segnato due gol magistrali lanciando la strategia dell'app digitale Apple, l'iPod e l'iPhone. Ora era pronto per segnarne un altro.